Non è né un miracolo né un'impresa, credo che noi abbiamo il dovere tutti i giorni di lavorare e fare il massimo di quello che è nelle nostre possibilità. Non so a questa squadra che può arrivare. È normale che davanti abbiamo sei squadre che sono forti e non puoi fare la corsa su uno perché se tu non avessi solamente una squadra, se questa è un calo, la prendi. Ma qui devi fare una rincorsa su se squadra. In questo momento qui sembrava che dopo la partita con la Roma fosse tutto andato all'aria e invece siamo ancora a due punti alla Roma e non scordiamoci che la Roma ha 32 punti con una partita vinta a tavolino. Siamo a cinque punti dall'Inter, siamo a cinque punti dalla Fiorentina e credo che ci voglia parecchia calma. Dico sempre, nella vita ci vuole calma. Se si parla di giovani non si può pensare dopo domani di poter vincere il campionato o fare... poi magari lo possiamo... ci speriamo tutti e ci dobbiamo credere perché bisogna credere nelle cose in cui facciamo. Però credo che bisogna andare un pochino piano perché altrimenti dopo ci facciamo vedere il male.